Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Personalmente sono convinta che nessuno di voi abbia dimenticato il caldo torrido a tratti insopportabile dell'anno scorso le temperature record. Bene, adesso è ufficialmente certificato perché sono arrivati i dati di Copernicus, il programma di osservazione satellitare dell'Unione Europea che certificano, nero su bianco, che il 2022 è stato il secondo anno più caldo in 30 anni, con un aumento delle temperature di circa 1,4 gradi. Allora, parleremo anche di questo, non solo di questo, nella puntata perché domani si celebra in tutto il mondo l'Air Day, che è la più grande manifestazione internazionale a salvaguardia del nostro pianeta. Insomma, noi vogliamo prepararci a questa giornata. Prima però portiamo l'attenzione sul benessere in senso generale. Vedremo che questo tema è strettamente collegato anche a quello dei cambiamenti climatici. Portiamo l'attenzione sul benessere perché ieri è stato presentato dall'Istituto di Statistica Italiano, dall'Istat, il decimo rapporto BES, appunto, sul benessere equo e solidale, che ci dice tante cose, alcune insomma prevedibili, altre molto meno. E allora, commentiamo i risultati del rapporto con i nostri ospiti, con Don Marco Ricci, che è tornato a trovarci. Noi felicissimi di averlo qui, parroco della Chiesa del Santissimo Rosario di Ercolano. Don Marco, è un piacere ritrovarti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao a te, così come è un piacere ritrovare il professore Leonardo Becchetti, collegato con noi, ordinario di Economia Politica all'Università di Tor Vergata, componente indipendente del Comitato Scientifico per la Valutazione delle Misure di Contrasto alla Povertà e del Reddito di Cittadinanza del Ministero del Lavoro. Professor Becchetti, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, professor Becchetti, la guardiamo un attimo più da vicino questa istantanea che ci consegna il rapporto BESS. Mi pare di capire che si conferma che il nostro non è un paese né per famiglie, né per giovani, né per donne. Sì, diciamo che è quello che colpisce rispetto alla... perché è interessante vedere ovviamente la posizione dell'Italia, ma anche cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno. E quello che colpisce è che il Covid è stata una ferita molto forte. Gli shock che abbiamo vissuto, Covid, poi aumento dei prezzi del gas, inflazione, hanno avuto un impatto da cui non ci siamo ancora ripresi del tutto, perché abbiamo da una parte le famiglie che sono cadute in povertà o dichiarano difficoltà economiche che sono aumentate molto in tutte le regioni del paese. E abbiamo un dato che a me fa impressione, che è anche quello delle differenze di aspettativa di vita, perché quando parliamo di diseguaglianze, le diseguaglianze non sono solo di reddito, ma si trasformano in diseguaglianze anche proprio di anni di vita, di aspettativa di anni di vita. In Italia questa differenza esiste tra la Campania e il Trentino, che sono i due pilastri, ed era di due anni ed è arrivata a tre anni dopo il Covid, quindi le differenze si sono amplificate. E sono differenze che dipendono dai sistemi sanitari. Se andiamo a guardare il dato sulle morti evitabili, che sono un tipico dato che misura i limiti del sistema sanitario, sono morti che non dovrebbero accadere perché ci sono le cure per quelle malattie, e lì rivediamo questo gap tra Campania e Trento. L'altra cosa che fa impressione, e dicevo appunto di ferita del Covid, è la perdita dal punto di vista della qualità delle relazioni sociali e delle competenze alfabetiche e numeriche degli studenti. Non siamo ancora tornati ai livelli pre-Covid, che erano quelli del 2019. Professor Becchetti, tra poco le chiedo qualcosa sulle donne di specifico, visto che abbiamo parlato un po' di tutto il resto. Colpisce anche, lei faceva riferimento adesso alle famiglie che si percepiscono impoverite, colpisce questo malessere diffuso, questo venir meno della speranza, che nei rapporti precedenti invece si esprimeva maggiormente. Ma questa è una questione, diciamo, di carattere più generale. Io credo che, ed è uno dei fattori che spiega anche il tema della natalità, della scarsa natalità, perché quando parliamo della demografia dobbiamo sempre considerare che ha due poli. Da una parte il tema economico, quindi la mancanza di sostegno economico come famiglie, servizi, asinito, ma dall'altra l'incapacità di la mancanza di speranza nel futuro. Un figlio lo si fa quando si ha speranza nel futuro e quando si è costruita una relazione stabile. Quindi questa è una cosa che va a incidere anche sul fatto demografico e noi insistiamo molto come economia civile sul fatto che una delle tre grandi crisi di oggi, quella ambientale, quella delle disuguaglianze, c'è anche quella della povertà di senso del vivere. Cioè le nostre società sono molto capaci di darci il know-how, le tecnologie, le tecniche, ma molto più aride dal punto di vista del know-why, cioè del perché si fanno le cose. Quindi questo tema della povertà di senso del vivere è un tema centrale che richiama però questioni più profonde, anche culturali e spirituali. Le ringrazio per aver sottolineato questa ricerca di senso, la difficoltà a trovarlo anche nelle azioni quotidiane. Dicevo le donne perché guardando i dati, sono dati che si fa un po' fatica a mettere insieme, a collegare, perché da un lato ci viene detto e certificato che le donne sono assai poco presenti, per esempio a livello di politica locale, invece poi le abbiamo, rispetto alla media europea, molto presenti all'interno del Parlamento e a sorpresa direi anche nei consigli di amministrazione, mentre il lavoro femminile è ancora lì bloccato. Come mettiamo insieme tutto questo? In un quadro che ci consenta di capire qual è il punto? Diciamo che proprio esatto, i due poli sono questi. Da una parte l'Italia, ed è un'innovazione, ha cominciato a sperimentare la qualità e l'importanza del lavoro femminile in posizioni apicali, in politica e anche nell'economia, nelle aziende. Dall'altra però, se guardiamo ai fenomeni di massa, diciamo di grande scala, resta questo problema enorme del basso tasso di occupazione femminile, della difficoltà delle donne a ritrovare il lavoro dopo che hanno magari fatto la decisione di avere un figlio, molte non tornano sul mercato del lavoro e quindi ancora una volta della difficoltà del conciliare vita di lavoro, vita di relazioni, della carenza di servizi. Quindi questo è un punto fondamentale su cui secondo me il nostro Paese dovrebbe lavorare. Faccio un esempio, l'altro giorno ho chiamato un mio collega spagnolo che ha appena avuto un bambino, un figlio, e lui parlava del fatto che in Spagna c'è anche una quota di congetto parentale obbligatorio per gli uomini, oltre che per le donne. E' fondamentale, l'abbiamo visto. Esatto. Allora, Don Marco, poi il rapporto BES dà ampio spazio alla condizione giovanile dal punto di vista della formazione, dello studio, di dispersione scolastica, abbiamo parlato tante volte qui, ma poi c'è il fenomeno dei cosiddetti NET, quell'acronimo NOT in education, sono giovani che non sono più nel percorso scolastico, sono tanti in Italia dai 15 ai 29 anni, non sono in employment, non lavorano, non sono in training, è quella TD NET, cioè neppure una formazione. Dal tuo osservatorio, un territorio in cui il lavoro troppo spesso è apparso e appare ai ragazzi un miraggio, la situazione come la descriveresti, Don Marco? Allora, la situazione non è molto facile. Mi colpiva molto quello che diceva il professore Becchetti, parlava delle due crisi, la crisi ambientale e la crisi sociologica. Papa Francesco l'ha sempre detto, non esistono due crisi, esiste un'unica sola grande crisi, c'è una crisi socio-ambientale e fin quando non si comincia a lavorare su entrambe le direttrici, considerandole un'unica grande crisi dove tutto è connesso, allora le cose non si risolveranno mai. Si investe poco, soprattutto al sud, al sud si investe poco, sia in risorse umane che in risorse materiali. Tanti giovani si sentono abbandonati perché non tutti hanno le capacità di studio, non tutti possiamo essere scienziati, però prospettive di lavoro non ce ne sono. Io lo vedo pure all'interno delle nostre parrocchie. Tanti giovani che li cresci, che li curi e poi dopo a un certo punto arrivi a Gherce Grazie. Prima si andava al nord, adesso addirittura... Che è una vera sconfitta, tra l'altro appunto il rapporto BES certifica proprio anche quella distanza tra i territori, tra il nord e il sud, che è un problema secolare, neanche decennale per il nostro paese. Professore Becchetti, venendo alle questioni ambientali, nel rapporto si parla proprio degli accelerati cambiamenti climatici, quindi le temperature molto alte, gli eventi estremi. Dal punto di vista della strada che stiamo percorrendo nel ridurre le emissioni di CO2, anche qui mi sembra di cogliere dei dati un po' discordanti. Come ci stiamo muovendo? Allora, l'Italia ha un potenziale straordinario, perché noi come sappiamo la ridurzione del CO2 passa soprattutto attraverso il cambiamento delle fonti di energia, perché il 70-80% delle emissioni dipende da quello. E l'Italia ha un potenziale di capacità progettuale straordinario, più di 300 gigawatt di progetti pronti, ne bastano 85 per arrivare agli obiettivi del 2030. La vera questione, il vero collo di bottiglia è la lentezza delle autorizzazioni e la difficoltà, quindi da questo punto di vista. Devo dire che ultimamente qualcosa si sta muovendo, ma più si deve muovere. Adesso abbiamo due decreti importantissimi sull'agrivoltaico e sulle comunità energetiche, che tra l'altro sono state spinte moltissimo proprio dalla Chiesa, con le settimane sociali, eccetera. Tanti progetti pronti, ma queste bozze di decreti che il governo ha mandato a Bruxelles devono tornare indietro e devono entrare in vigore. Poi c'è stato un decreto sulle semplificazioni molto importante. Quindi io credo che abbiamo tutti gli strumenti per fare un grosso salto di qualità e il mercato si sta muovendo in questa direzione senza nessun dubbio. Ci sono alcune cose fondamentali da fare, come quello presente nel settore edilizio, dove deve ripartire l'efficientamento degli edifici, che ha bisogno di risorse pubbliche e non può funzionare solo col mercato. Allora, chiudiamo questa riflessione che ovviamente è solo un accenno, ma che riprenderemo anche col professor Becchetti, quindi su delle note e degli spunti più positivi di quelli di partenza. Io ringrazio moltissimo il professor Becchetti per averci accompagnato dentro questo tema. Abbiamo sfiorato, toccato il tema ambientale, quindi questo ci porta dritti al villaggio della Terra, che torna in presenza, finalmente dopo il periodo del Covid e del lockdown, là dove negli ultimi anni è sempre stato, cioè a Villa Borghese, dove si trova la nostra Marta Manzo. Marta, a te. Ciao Gabriella, buon pomeriggio. Sì, a Villa Borghese e non solo, anche alla terrazza del Pincio ha riaperto, infatti il villaggio per la Terra. Sono cinque giorni, da oggi fino al 25 aprile, di eventi, di forum, di incontri e anche laboratori didattici, soprattutto rivolti ai bambini, proprio per festeggiare la giornata della Terra, che ricorrerà domani, 53esima edizione, lo stavate dicendo. Sono giornate appunto legate a quelli che sono gli elementi dell'ambiente. Alle mie spalle potete vedere degli piccoli stand, che sono un po' le piazze in cui questi eventi si stanno svolgendo e di cui parleremo tra poco con i protagonisti. A te. Grazie, grazie Marta. Come vedete, per festeggiare la 53esima edizione della giornata internazionale della Terra, scoppiata anche finalmente nella capitale, la primavera. Allora, io sosto da Simone. Simone. Ebbè, allora lo avete capito. Oggi parleremo dei piccoli grandi gesti per salvaguardare il nostro pianeta. Però facciamo una cosa. Partiamo da noi, dai nostri piccoli gesti. Allora, cosa fate nel quotidiano per appunto dare una mano all'ambiente, evitare inquinamento? Ma scendiamo proprio nel concreto. Insieme a voi, non so, magari comprate meno vestiti oppure spegnete le luci quando non servono oppure magari evitate totalmente la plastica. Insomma, fatevi sentire. Il numero nostro è a vostra disposizione. 348-3070-345. Appuntate, ve lo mi raccomando, perché potete davvero partecipare attivamente alla puntata. Vi aspettiamo anche sui social, perché sono attivi. Instagram, Facebook, Twitter. C'è una mail per voi. Aspettiamo allora i vostri messaggi. Grazie Simone e grazie anche per averci subito fatto comprendere quanto sono importanti i cambiamenti degli stili di vita che partono da piccoli, grandi gesti, come quelli che si fanno anche nella parrocchia di Don Marco. Tra poco ve li racconteremo. Intanto noi andiamo in pubblicità, poi torniamo qui in studio. Eccoci, rientrati in studio. Via siamo noi domani, 22 aprile, si celebra in tutto il mondo l'Air Day, la giornata mondiale della Terra, la più grande manifestazione internazionale di tutela del creato. E perché la cosa ci riguarda dovrebbe riguardarci? Beh, innanzitutto perché come sempre, incessantemente ci ricorda Papa Francesco, noi di questo pianeta non siamo affatto padroni. Al massimo noi siamo i custodi e abbiamo la responsabilità di prendercene cura. Allora, proseguiamo la nostra riflessione con Don Marco Ricci, che è qui con noi, ambientalista dell'anno, voglio ricordarlo nel 2017 per Lega Ambiente, per le sue battaglie nella terra dei fuochi. E a lui si è aggiunto il collega, felice di averlo qui a Siamo Noi per la prima volta, Emanuele Bonpan, esperto d'ambiente, geografo, di clima, di economia circolare. Emanuele, benvenuto. Grazie a tutti gli spettatori. Allora, Emanuele, tra qualche istante sono da te perché la cronaca proprio recentissima di questi giorni mi conduce dritta da Don Marco, perché Don Marco, appena tre giorni fa, era in effetti il 18 aprile, nove persone sono state arrestate per aver sversato rifiuti speciali, naturalmente non erano classificati per niente come tali, ma stiamo parlando, io ho letto, di amianto, di idrocarburi, in una bella porzione di territorio, incluso una parte del Parco Nazionale del Vesuvio. Allora, siamo sempre lì, malgrado il grandissimo impegno di tanti volontari, volontari come quelli dell'Associazione Ambiente Vesuvio che lavora con te, la consapevolezza di tanti giovani, siamo sempre lì. No, guarda, non cambia niente. L'unica cosa che cambia è il clima, se vogliamo fare una battuta, però veramente non cambia niente, ma non proprio nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, non diciamo in zone limicrofe. È una cosa grississima, è una cosa grisse perché noi non ci rendiamo conto, io lo dico sempre, la terra è mamma, la terra è magre, se noi ammazziamo la terra in nome del Dio Genaro, noi facciamo una brutta fine tutti quanti. Oggi si parla di femminicidio, ma nessuno più parla che si ammazza la terra. Tu infatti dici si tratta di femminicidio. Sì, è un femminicidio a tutti gli effetti. Forse se usiamo questa parola può rendere un poco in più, perché magari colpisce in più e ci fa capire ancora di più quello che si commette, perché poi spesso dalla terra noi vogliamo costringere a dare cose che purtroppo non sempre può darci, a volte la forziamo, e quindi vediamo tutto quello che accade. Tra l'altro le sostanze tossiche, conferma me lo sono state sversate dove ci sono noccioleti, dove si coltiva la frutta. Ma magari quei prodotti se li mangiano le stesse persone che hanno sversato. Follia che ci ricorda la stretta connessione Emanuele tra salute e ambiente. Tra poco la guardiamo ancora più da vicino. Io sono partita, non so se hai avuto modo di sentirlo, da quella conferma ufficiale arrivata dai dati del programma di Copernico sull'osservatorio satellitare dell'Unione Europea, per cui il 2022 è stato l'anno più caldo, il secondo anno più caldo negli ultimi 30 anni. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci ancora? Nel senso, Emanuele, che sarà molto dura e difficile invertire la tendenza, potremmo farlo? Di quanto tempo, di quante azioni ci sarebbe bisogno? Purtroppo circola una battuta ultimamente che dice che quella è stata l'estate più fresca del resto della nostra vita. Purtroppo la tendenza generale è un aumento delle temperature globali. È stata l'estate più calda, il secondo anno più caldo. È stata un'estate record per le emissioni legate agli incendi, sempre legate all'aumento delle temperature. Fusione record dei ghiacciai e quindi anche aumento dei rischi, perché sappiamo bene che quando le temperature rimangono elevate per tempi prolungati aumenta la mortalità delle persone soprattutto più deboli, gli anziani, i bambini piccoli, le persone malate. Questo quindi significa che sul lungo periodo, visto che purtroppo le temperature medie non acceneranno a diminuire nei prossimi 10-15 anni, anzi, aumenteranno ulteriormente, sarà sempre maggiore il rischio per noi cittadini, qua in Italia. Certo. Emanuele, insomma, poi capiamo anche che cosa significa questo per il sistema sanitario, insomma, l'impatto che ha sulla mortalità, insomma, sono tante le questioni connesse. Io adesso vi riporto da Marta Manzo al villaggio della Terra, perché vogliamo capire un po' come è articolato questo villaggio con tutte le sue piazze. Due minuti. Sì, Gabriella, eccomi, 17 piazze, lo stavamo dicendo prima, sono 17 piazze, perché c'è un motivo con me a raccontarlo. C'è Elisa Ranzi, che è la coordinatrice degli studenti universitari che proprio animano queste piazze. Elisa, perché 17? Allora, sono 17 piazze perché rispecchiano i 17 obiettivi dell'agenda 20 e 30 e quindi si è voluto dedicare un posto, una piazza per ciascun obiettivo e la piazza è da sempre luogo di incontro, di dialogo, quindi l'idea è quella proprio di avere un posto per scambiare, informare, creare sinergie con le varie realtà, con le varie associazioni. Tu sei la referente per quanto riguarda l'Università Cattolica, voi vi siete sempre occupati del Villaggio per la Terra, ma siete riusciti a coinvolgere altre figure, altri ragazzi? Esatto, da 2018 l'Università Cattolica è capofilia di questo progetto e da quest'anno questo progetto vede coinvolte anche le Università Pontifice e siamo riusciti a prendere con noi 50 ragazzi di queste università e abbiamo fatto degli incontri formativi per capire bene cos'è l'Agenda 2030 e per capire poi anche come dare il nostro servizio qui al villaggio. Lo chiedo a te che sei giovanissima, Elisa, ha 24 anni. Perché partecipare al Villaggio per la Terra? Per partecipare per essere protagonisti nel piccolo di un cambiamento che deve avvenire, sta avvenendo e anche per rispondere un po' alla chiamata di Papa Francesco nella sua enciclica perché per costruire il pianeta c'è bisogno di persone che ci credono, che vivono bene e che ci mettono tutto quello che possono nel loro piccolo e così insieme agli altri. Io ringrazio Elisa Aranzi tra poco vi porto proprio nella piazza numero 14 ma non vi dico cosa c'è tra poco. Grazie Marta. Allora Don Marco ogni piazza al Villaggio della Terra corrisponde a uno dei 17 obiettivi e alcuni di questi obiettivi così apparentemente a uno sguardo superficiale non sembrano direttamente o almeno strettamente connessi al tema dell'ambiente. Pensiamo per esempio alla lotta al primo punto la lotta alla povertà del primo punto l'ottavo obiettivo che è quello del lavoro dignitoso della crescita economica e io tante volte ti ho sentito dire anche qui a Siamo Noi che in realtà anche qui tutto si connette perché dove il lavoro è sfruttamento dove il lavoro non è dignità immediatamente viene calpestata anche la casa comune e vengono calpestati i diritti alla salute. Ma certo pensa che tanto inquinamento nasce pure per il lavoro a nero perché se io lavoro a nero dopo devo smaltire a nero e quindi il problema non solo inquino l'ambiente ma inquino anche la dignità del lavoratore che è costretto a stare ore e ore costretto a lavorare perché se non fa quel lavoro non può fare altro e quindi si inquina anche la dignità della persona ecco quello che diceva Papa Francesco tutto è connesso se io investo per la dignità del lavoro risolvo anche tanto problema dell'inquinamento non so se si si è stato molto chiaro Don Marco allora noi adesso andiamo brevemente in pubblicità poi ritorniamo perché anche con Emanuele Bonpan mi piacerebbe mettere in luce quanto anche le nostre scelte individuali a chi affidare i nostri risparmi per esempio possono aiutare a invertire la rotta parleremo degli investimenti in gas e in petrolio anche qui possiamo fare qualcosa per farli dirigere altrove questi investimenti a tra pochissimo eccoci rientrati in studio alla vigilia della giornata mondiale per la terra domani 22 aprile stiamo rimaneggiando anche molti interventi di Papa Francesco che incessantemente ci ricorda che noi non siamo padroni del pianeta non siamo padroni di niente ne siamo al massimo custodi un suo intervento recente era quello del 19 gennaio quando Papa Francesco in Vaticano ha incontrato una rappresentanza di monaci buddisti e sentiamo che cosa ha detto loro la conversione ecologica avviene quando si riconoscono le radici umane dell'attuale crisi ambientale quando il vero pentimento porta a ralentare o a restare tendenze ideologie e pratiche lessive e irrespettose del creato e quando le persone si impegnano a promuovere modelli di sviluppo che curino le ferite inferte dall'abilità dall'eccessiva ricerca dei profitti finanziari dalla mancanza di solidarietà con i vicini e dal mancato rispetto dell'ambiente ecco Papa Francesco ci ha tante volte messo in guardia non solo quel 19 gennaio dalle conseguenze della ricerca eccessiva di profitti finanziari Emanuele Bonpan ci sono 31 istituzioni religiose ne voglio ricordare l'impegno perché tutte insieme hanno aderito alla iniziativa globale di disinvestire nei combustibili fossili un'iniziativa non di poco conto perché comporta un impegno di 2 miliardi di dollari allora ci aiuti a capire a far capire a cosa può portare un'azione così coordinata organizzata globale di disinvestimento dai fondi che invece si orientano sullo sfruttamento dei combustibili fossili disinvestire nelle fossili significa togliere la linfa vitale per lo sviluppo di nuovi pozzi nuove infrastrutture per i combustibili come gas e petrolio e anche carbone in questo modo si toglie le risorse economiche si va invece a finanziare uno sviluppo sostenibile energie rinnovabili infrastrutture di trasporto pubblico efficientamento energetico inoltre disinvestire nelle fossili è anche un modo per ridurre il rischio dell'esposizione degli investimenti legati alle fonti fossili il futuro va verso la decarbonizzazione e quindi sempre meno conviene investire in infrastrutture che un giorno potrebbero essere obsolete o potrebbero essere rischiose lo abbiamo visto anche recentemente con il gas e l'eccessiva dipendenza dalla Russia e quindi è importante che le persone quando anche fanno piccoli investimenti o scelgono delle proposte da parte delle proprie banche dei propri consulenti scelgano dei prodotti finanziari che non contengono investimenti in compagnie che fanno estrazione di oil di petrolio o di gas e quindi guardino con attenzione invece a listini che favoriscono piuttosto l'economia circolare l'economia sostenibile la blue economy quella del mare oppure il sostegno dei rinnovabili grazie Emanuele ti ringrazio in particolare per aver sottolineato che dobbiamo essere consapevoli a chi affidiamo Don Marco i nostri soldi io lo dico proprio così brutalmente perché insomma ci sono delle banche etiche sembra che le due cose non possano coesistere esiste proprio la banca etica esiste proprio la banca etica oggi si parla di nuovi stili di vita però noi forse dobbiamo parlare di nuova economia nuova politica ma anche di nuova etica dobbiamo veramente cominciare a rivedere tutto il nostro modo di vivere se non cambiamo questo noi non so dove andremo dove andremo a finire se non cambiamo prima le nostre coscienze se non ci rendiamo conto che anche un gesto che a me può sembrare insignificante invece è importante per il bene comune e allora non andiamo da nessuna parte i ragazzi Don Marco su questo ci trainano ci portano avanti ce lo diceva anche Marta Manzo che ci ha promesso di svelare che cosa accade che cosa troviamo alla piazza 14 del villaggio della terra a Roma Marta la piazza 14 obiettivo dedicato appunto agli oceani al mare lo stavate dicendo e con me c'è appunto l'associazione Mare Vivo Onlus Elisa Del Gobbo ufficio stampa dell'associazione Elisa cosa state facendo intanto partiamo dall'obiettivo 14 quindi quali sono le vostre attività come Mare Vivo Onlus benissimo buonasera a tutti l'obiettivo 14 è quello proprio dedicato agli oceani al mare e all'interno dell'agenda della Nazione Unite 20-30 questo obiettivo vuole preservare e utilizzare le risorse marine in modo sostenibile per salvare ovviamente i nostri ceni e i mari e come associazione cosa fate? esattamente questo è un po' il cuore proprio della nostra mission da quasi 40 anni quotidianamente noi siamo impegnati in attività di non solo pulizia delle spiagge ma anche dei fiumi perché comunque oltre l'80-90% dei rifiuti che troviamo in mare vengono dalle arterie nelle nostre città e oltre a queste attività di pulizia anche sensibilizzazione e soprattutto educazione ambientale la vediamo alle nostre spalle c'è un laboratorio in corso in questo momento con i bambini sono molto piccoli che cosa si fa in questo laboratorio? allora c'è quella che noi chiamiamo la valigia del mare che contiene gli scrigni segreti del mare nient'altro che appunto alcune delle specie che noi troviamo sulle nostre spiagge e coste quotidianamente e che diamo molto spesso per scontate quindi con le nostre attività di educazione ambientale e sensibilizzazione sin da giovanissimi noi cerchiamo di educare i bambini proprio a riconoscere queste specie e a preservarle e tra l'altro appunto questo fa parte anche di una delle nostre campagne principali che si chiama Adotta una spiaggia che partirà a breve che è proprio il prendersi cura del mare e dell'ambiente in generale perché è così importante partecipare al villaggio per la terra? allora noi siamo qui oggi proprio perché crediamo molto al fatto che terra e mare siano appunto molto legati tra loro e che il mare dà oltre appunto ad offrire il 50% dell'ossigeno che respiriamo e come sappiamo bene uno dei principali regolatori del clima per noi è importantissimo diffondere il messaggio dell'importanza di preservare il mare proprio per la vita del pianeta e dell'uomo sul pianeta e io ringrazio Elisa Del Gobbo ringrazio la Mare Vivo Allus Gabriella dal villaggio per la terra ti restituisco la linea grazie grazie davvero allora l'invito è andarci se siete a Roma se siete di passaggio è un luogo speciale visitato a sorpresa anche da Papo Francesco nel 2016 io vado da Simone ma quanti sono i comportamenti virtuosi dei nostri telespettatori Gabriella perché continuano ad arrivare c'è chi per esempio è particolarmente attento alla differenziata come Caterina e chi invece come Anna e Concetta evita totalmente la plastica e poi c'è chi ricicla tutto come Margherita che ci scrive amici di Siamo Noi io riciclo qualsiasi cosa da una vita faccio cestini di carta per evitare la plastica riciclo giornali fotocopie un po' di tutto e poi raccolgo l'acqua piovana e la reutilizzo per le mie piantine poi Maria io stacco la lavastoviglie poco prima che inizi l'asciugatura in questo modo evito lo spreco della corrente elettrica per quanto riguarda gli acquisti evito vestiti in poliestere e quindi le microplastiche chiudo con Daniela mia mamma diceva sempre quando ti senti triste fai una passeggiata e ammira la natura e funziona davvero e questo perché ci si sente piccoli piccoli e si esce dal proprio egoismo bellissimo grazie Simone grazie a tutti voi allora siamo verso la conclusione Simone Bonpan già molti spunti li abbiamo messi sul tavolo ma come Emanuele Bonpan ho fatto una sintesi tra voi due compici gli occhiali che sono simili ma allora qual è la prima azione urgente che dobbiamo mettere in campo per cambiare direzione beh direi se dovessi scegliere partirei proprio dai comportamenti sull'energia sappiamo che l'energia lo diceva anche il professor Becchetti è il principale elemento per andare a correggere le strutture legate al cambiamento climatico quindi massima attenzione e consumo energetici inclusi anche quelli dei combustibili quindi usare l'automobile quando strettamente necessario preferire la bicicletta i mezzi pubblici che sono anche i viaggi in aereo che noi siamo una generazione cresciuta con l'aereo i viaggi in aereo una volta all'anno su vacanze possibilmente ma sarebbero da evitare insomma quanto possibile anche qua ci saranno sicuramente delle evoluzioni in futuro il tutto stanno di non esagerare siamo abituati a prendere aerei ogni weekend per stare via magari anche solo 24 ore ecco questi non sono comportamenti se si fa un viaggio ogni tanto però a casa poi non prendiamo l'automobile abbiamo i pannelli fotovoltaici andiamo in bicicletta insomma abbiamo tutti quei comportamenti che sono positivi dal punto di vista dell'energia possiamo anche abbiamo già fatto moltissimo anche perché i grossi dei consumi sono quelli quotidiani e domestici Don Marco siamo proprio in conclusione tu prima ci hai detto bisogna cambiare dentro e fuori nella tua parrocchia sono cambiate già diverse cosette io cerco di inculcare anche se alcune mie scelte vengono prese come scelte di tirchiaggine che non voglio pagare spendere soldi quindi cambiare le luci cambiare gestore di energia elettrica evitare al massimo fotocopie la carta tu non la usi più in parrocchia? l'otto io non la uso io non la uso pure sull'altare uso tablet telefoni quando posso e cerco di limitarla al massimo quest'anno i ragazzi dell'oratorio all'inizio dell'anno al mandato abbiamo regalato i bicchieri di plastica però quelli riciclabili quelli di plastica rigida questi sono i famosi piccoli grandi gesti di cambiamento Don Marco grazie grazie Emanuele Bonpan ringrazio tutti voi che ci seguite ricordo che domani proprio per celebrare la giornata mondiale della terra la nostra televisione TV 2000 manda in onda alle 21 e 20 il film documentario Laudatosi una lettera per il mondo grazie a tutti noi vi aspettiamo da lunedì al venerdì alle 15 e 15 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti